Buonasera a tutte e a tutti. Abbiamo ringraziato il Presidente Mattarella per il lavoro di questi sei anni e per il lavoro che lo attende, per l'alto servizio al Paese che sta svolgendo. Italia Viva ha espresso al Presidente della Repubblica la preoccupazione non già per la crisi politica, ma per la crisi sanitaria, economica ed educativa che il nostro Paese sta vivendo dopo la pandemia. C'è chi pensa di far credere che questa discussione sia una discussione tra caratteri, tra personalità, tra piccoli risentimenti, niente di più lontano dal vero. Questa narrazione monocorde è una narrazione che non sta né in cielo né in terra. Noi da mesi chiediamo di discutere di contenuti, soprattutto quelli su cui non siamo d'accordo. E in nome delle nostre idee siamo disponibili a rinunciare alle nostre responsabilità. Lo dico perché gli italiani che ci seguono da casa hanno assistito in queste settimane a uno spettacolo indecoroso di caccia alla singola persona, al singolo parlamentare. Si è fatto credere che recuperando un voto o due in Senato si potesse affrontare la più grave crisi che il nostro Paese sta vivendo. Bene, Italia Viva è esattamente l'opposto di tutto questo. Alla mia sinistra c'è una parlamentare, la senatrice Teresa Bellanova, che assieme alla professoressa Elena Bonetti e all'onorevole Ivan Scalfarotto, in nome delle proprie idee, ha rinunciato alla poltrona. È esattamente l'opposto del tentativo di coinvolgere e cooptare in una maggioranza che tale non è singoli individui capaci di cambiare idea pur di avere un ruolo o una responsabilità. Parliamoci con chiarezza. Siamo il Paese che vive la più difficile situazione economica dal dopoguerra, un crollo del PIL nel 2020 sostanzialmente a doppia cifra. Siamo preoccupati dello sblocco dei licenziamenti che impatterà moltissimo su una già precaria situazione occupazionale. Abbiamo un rapporto tra popolazione e numero di decessi per Covid, purtroppo, che è uno dei più alti al mondo. Abbiamo una situazione di difficoltà oggettiva nella gestione della scuola che per noi è la prima preoccupazione. Noi, che siamo figli, genitori, fratelli, parenti di italiani come tutti che vanno a scuola e che considerano questa la priorità, vediamo con grande preoccupazione il fatto che nelle classifiche mondiali siamo il Paese che, dopo la Corea, ha il maggior numero di giorni persi dai nostri ragazzi. La politica deve occuparsi della nuova generazione. Oggi queste ragazze e ragazzi da dieci mesi vivono in una situazione di difficoltà. Di questi temi abbiamo cercato di parlare con quella che era la maggioranza fino a poche settimane fa. Abbiamo proposto con lettere scritte, con documenti, con impegni formali in Parlamento le nostre soluzioni. Non abbiamo ottenuto risposte all'altezza della sfida che l'Italia deve vivere. Alla luce di questo abbiamo scelto, con un atto di grande coraggio e nobiltà, di lasciare le poltrone, di lasciare i ministeri. Nella storia della Repubblica italiana non sono moltissimi i casi di ministri che si sono dimessi per motivazioni politiche. E adesso che cosa? La nostra proposta è quella di portare il Paese a una discussione vera sul piano Next Generation EU. Sono 209 miliardi che sono decisivi. Fanno la differenza perché se spesi male faranno quel debito cattivo di cui parla spesso il Presidente Draghi. Se spesi bene sono la soluzione per il nostro Paese. Sono la soluzione alla crisi. Dopo la peste è avvenuto il rinascimento, dopo la pandemia può nascere la ripartenza. C'è bisogno del Recovery Plan, c'è bisogno del Next Generation EU, quindi andare ad elezioni in questa fase sarebbe un errore per l'Italia e per gli italiani. Rischieremo di perdere l'appuntamento europeo e quindi noi pensiamo che occorra un governo presto. Fare presto, fare bene, fare tutto, fare lietamente, diceva un sommo pontefice. Noi molto più banalmente diamo la nostra disponibilità, l'abbiamo appena data al Presidente della Repubblica per individuare le soluzioni più opportune. Preferiamo un governo di natura politica a un governo di natura istituzionale, ma ci dichiariamo disponibili anche, ove questa fosse l'unica strada per evitare le elezioni, ad appoggiare un governo istituzionale. Rispetto al governo politico, prima di avventurarci sui contenuti e sui nomi, c'è una domanda a cui dare risposta, e cioè qual è la maggioranza che lo può comporre. Noi abbiamo assistito in questi giorni a parole molto dure nei confronti di Italia Viva, mai più con Italia Viva. È diventato forse non più con Italia Viva. E infine, nelle ultime ore, forse Italia Viva è irresponsabile e inaffidabile. Noi pensiamo che sia irresponsabile chi non vuole affrontare adesso le questioni dei prossimi anni, perché la crisi istituzionale si è aperta, perché ora si spendono i soldi dei nostri figli e dei nostri nipoti. Ora non si può fare tra un anno, tra due anni. Ora sono i giorni decisivi, ora ci giochiamo il futuro. E quindi noi non siamo né inaffidabili né irresponsabili, siamo molto chiari e diretti. Abbiamo sentito parole su di noi che sono parole al limite dell'insulto. Vogliamo semplicemente sapere dalle altre forze politiche se ritengono Italia Viva parte o non parte di una maggioranza, dicendo con chiarezza che per quello che abbiamo visto fino ad oggi la caccia al singolo parlamentare non ha prodotto un'altra maggioranza. E quindi rimettiamo la valutazione a chi in queste settimane che ha messo dei veti su di noi. Chiediamo di fare presto, siamo disponibili ad impegnarci in una maggioranza politica se questa è maggioranza e se questa è politica. Quindi non se è un'incollazione raccogliticcia né se è populista. Fuori di metafora, attendiamo di capire nelle prossime ore. Se la valutazione delle altre forze politiche è quella di voler coinvolgere Italia Viva, nel caso per coinvolgere Italia Viva devono prendere la libertà di discutere delle idee. Noi non chiediamo niente di posti, non ci mettiamo a ricattare, a barattare a doubt des. Noi siamo pronti a discutere di politica. Ma se questa disponibilità non vi fosse, siamo disponibili a un governo istituzionale. Se poi le forze politiche sceglieranno di andare alle elezioni, si assumeranno la responsabilità. Da parte nostra, massima libertà, disponibilità, purché al centro ci siano i problemi degli italiani, non dei sentimenti e risentimenti, ma le questioni che riguardano i vaccini, le questioni che riguardano le aperture delle scuole, le questioni che riguardano lo sblocco di dedicare posti di lavoro. Posti di lavoro, non sussidi, non assistenzialismo. Se ci sono domande, le prendiamo. Salve Presidente, Simone Canettieri del Foglio. Per capire quindi, lei ha messo un veto su un possibile conteterre oppure no? E in seconda battuta, lei ha parlato giustamente non di poltrone, non vuole parlare di poltrone, ma di argomenti e di temi. Il tema del MES rimane per lei è una condizione, diciamo, indispensabile per far parte di una maggioranza politica? Grazie. Cos'è il MES? Sono 36 miliardi di euro che servono per la nostra sanità. Noi pensiamo che questi denari vadano presi per dare una mano a chi? Agli infermieri, ai dottori, ai giovani ricercatori, agli specializzanti, al mondo della medicina personalizzata, della medicina sul territorio. Quindi se lei mi domanda cosa pensa Italia Viva del MES, l'Italia Viva è a favore del MES e ci suona strano che un governo che dovrebbe essere europeista tema il MES in nome delle condizionalità europee. So che entriamo nel tecnicismo, ma diciamolo con chiarezza, le condizionalità del Next Generation EU sono decisamente più alte delle condizionalità più stringenti delle condizionalità del MES. Questa è una condizione sine qua non? Io le dico con molta chiarezza che noi abbiamo posto una serie di argomenti, tanti. Sono scritti in una lettera al Presidente del Consiglio, uscente di missionario, il Presidente e il Professore Giuseppe Conte, a cui il Presidente del Consiglio dopo un mese e mezzo non ha dato risposta, ma sono messi nero su bianco. E non diciamo prendere o lasciare, discutiamo nel merito. Non hanno voluto discutere e hanno alimentato una narrazione per la quale noi facevamo una polemica perché abbiamo un brutto carattere. Qui non si tratta di simpatia o antipatia, qui si tratta del futuro dei nostri figli, dei posti di lavoro, della possibilità di ripartire, dei ristoranti che sono chiusi, del turismo che aveva pochi soldi nella prima versione del Next Generation EU e che continua ad averne pochi rispetto a quelli che servono. Questo è l'argomento di discussione. E in questo non possiamo dire o prendete il mess o ce ne andiamo o viceversa dire o togliete questa misura o ce ne andiamo o cancellate il cashback. Noi non siamo persone che danno degli ultimasmo. Però vogliamo un dibattito vero su questi argomenti. Anziché andare in televisione semplicemente a raccontare di quanto uno ha il carattere ragazzo e discutiamo perché non serve il mess. Raccontateci che nei nostri ospedali il mess non serve. Diteci perché volete mettere più soldi per il cashback che per l'occupazione giovanile. Su questi temi siamo pronti al dibattito. Non abbiamo paura di niente e di nessuno. Quanto al veto sui nomi? il punto no no finisco la domanda sul fatto la pausa di sospensione ma c'è arrivato. Io credo che dobbiamo abituarci a seguire il ladaggio latino nomina sunt consequentia rerum. il punto vero è che se lei deve andare in un posto prima sceglie dove deve andare poi sceglie il mezzo con cui ci va va in macchina va in treno poi sceglie con quali persone ci va e alla fine sceglie se va in macchina chi guida. Noi purtroppo non siamo ancora a scegliere chi guida. Ovviamente abbiamo le nostre idee anche su quello ma ancora non siamo lì. La vera domanda è intanto dove andiamo? andiamo verso un paese che spende 200 miliardi e li butta nel debito cattivo o che spende 200 miliardi per fare il più grande investimento dai tempi del piano Marshall anzi superiore anche al piano Marshall recuperando diciamo le diverse unità di grandezza. Sulla base di questo qual è la macchina che viene scelta? Una maggioranza politica o una maggioranza istituzionale? Se c'è la maggioranza politica chi sono i membri? Oggi ho letto visto e seguito le dichiarazioni di alcune forze politiche che dicono che con noi non si vogliono alleare e questo il loro obiettivo lo dicano. Pensano di poter fare a meno di noi? Auguri in bocca al lupo. Noi siamo fermi su questi temi. Alla fine di questo percorso discuteremo su chi è che deve guidare la macchina. L'unica cosa che chiediamo è di fare presto perché il Paese non si può permettere dopo 15 giorni in cui abbiamo assistito a quello a cui avete assistito cioè alla caccia al singolo parlamentare che si prenda ulteriore tempo. Se non vi fosse stato da votare oggi la relazione di buona fede su cui il Governo non aveva i numeri probabilmente saremmo ancora a cercare i cosiddetti responsabili. Io credo che sia responsabile chi pensa al futuro dei figli non chi pensa alla propria sistemazione personale. Niccolò Carratelli della Stampa. Insisto perché alla fine il Presidente della Repubblica dovrà comunque individuare una persona a cui affidare l'incarico per formare il nuovo Governo. Alcuni gruppi parlamentari hanno già fatto il nome di Giuseppe Conte, altri che verranno dopo di voi sicuramente lo faranno. A voi il Presidente ha chiesto la disponibilità comunque ad aprire un confronto nuovo con il Presidente Conte per aiutarlo a formare un nuovo Governo e da parte vostra c'è stata una risposta positiva dando questa disponibilità qualora lui alla fine dovesse scegliere di affidarlo a Conte l'incarico. Ribadisco il concetto. Noi non abbiamo fatto il nome del Presidente Conte perché riteniamo che siamo in una fase precedente. Noi vogliamo capire se Italia Viva è una forza politica le cui idee servono o non servono. Noi abbiamo subito 15 giorni di fango perché siamo stati gli unici a porre dei problemi contenutistici di merito e non abbiamo risposto con la guerra del fango. Abbiamo detto parliamo di contenuti. Allora se si parla di contenuti poi arriviamo anche alla discussione sui nomi e in quella sede diremo quali sono le nostre opinioni sui nomi. Ma il punto fondamentale di oggi, come l'abbiamo rappresentato al Signor Presidente della Repubblica, lo ribadisco, è pronti ad appoggiare un Governo istituzionale, pronti ad appoggiare un Governo politico con quest'ultima preferenza per noi decisamente superiore, questa proposta politica necessita di un passaggio ulteriore di natura politica che è quella di capire se vogliono stare con noi o no. Se vogliono stare con noi devono confrontarsi sulle idee, non sui tweet a effetto, non sugli hashtag. Se vogliono stare con noi devono raccontare che cosa pensano di fare per le prossime generazioni, devono parlare di scuola, non di ministeri e sottosegretari. Poi arriverà il momento di discutere dei ministeri, dei sottosegretari, del Presidente del Consiglio. E anche in quel caso, con molta trasparenza, diremo quello che pensiamo. Oggi la domanda è, noi, con il nostro portato di idee, siamo in condizioni di essere dentro una maggioranza politica o no? Io non vedo altra maggioranza politica che non contempli Italia Viva. Ma siccome questo lo stiamo dicendo soltanto noi da settimane e leggendo tutto ciò che abbiamo letto in questi giorni pareva un esodo biblico da Italia Viva, esodo biblico che inspiegabilmente non si è prodotto, le dico con molta tranquillità e con molta responsabilità, siamo pronti a discutere di tutto a condizione che si parta dai contenuti. L'ultima? Sì, Barbara Acquaviti, Oscar News. Le volevo chiedere, ma quindi quale può essere il fatto nuovo che vi riporta a discutere di un governo con questa maggioranza? Il gesto? Volete delle scuse? È un'altra domanda. Il Presidente Conte l'ha chiamata? Vi siete sentiti? La dimensione delle scuse appartiene alla dimensione degli scontri caratteriali. Questa non è una saga, questa non è una fiction, questo non è il grande fratello. Questa è politica. Qui siamo al Quirinale, nella sede massima delle istituzioni, perché la Costituzione prevede che quando c'è una frattura politica non si va alla ricerca di singoli parlamentari, si va dal Presidente della Repubblica, alla cui saggezza si rimette una complicata risoluzione della crisi. Questo l'ho espresso anche al Signor Presidente del Consiglio di Missionario, quando l'ho sentito nel pomeriggio, spiegandogli che noi non abbiamo nessun tipo di elemento caratteriale nei suoi confronti. Ma contemporaneamente dico a voi, per una volta, guardate le carte che abbiamo scritto. Guardate i documenti, anziché continuare con un racconto monocorde per il quale è tutta una questione di sensibilità personale. Non c'entra niente la sensibilità personale. Non si fa politica con i risentimenti. Mi piacerebbe farla con i sentimenti, ma non si fa con i risentimenti. E a questo proposito chiederei alla Senatrice Bellanova di spiegare semplicemente un punto dei mille che si possono affrontare, che è quello della situazione del lavoro. Lo dico perché la Senatrice Bellanova ha espresso questo concetto al Signor Presidente della Repubblica. Vi lasciamo con questo pensiero e con questo, ahimè, elemento molto problematico, che però spiega perché fino ad oggi stiamo discutendo di contenuti, mentre altri cercano di coinvolgere persone più per le vanità che non per un disegno politico. Teresa. Noi abbiamo rappresentato al Presidente della Repubblica quello che da mesi abbiamo detto al Presidente del Consiglio di Missionario e al resto della coalizione. La nostra preoccupazione è che non facendo investimenti strutturali, non facendo partire i cantieri, non individuando quote sostanziose nel recovery per quanto riguarda il futuro e quindi progetti realizzabili, noi appesantiamo la situazione economica. E questo per noi è un dramma, perché in questo anno si sono fatti interventi tampone di emergenza, cassa integrazione e bonus. Sta per scadere il blocco dei licenziamenti. Potranno anche prorogarsi per un mese, per due mesi, ma noi tutti sappiamo che mantenendo in modo indistinto gli interventi, ci sono imprese che sono già decotte, che non apriranno mai più, ci sono imprese che rischiano di chiudere perché non sono in condizione di fare interventi di innovazione. Allora, noi la preoccupazione che abbiamo, e ve la dico con molta franchezza, è quella che una questione sociale rischia di trasformarsi in una questione di ordine pubblico, perché i settori che sono più a rischi sono quelli dove meno c'è anche rappresentanza sociale, dove meno c'è la possibilità di organizzare la vertenzialità e quindi la costruzione delle soluzioni. Allora c'è bisogno adesso di mettere le mani a una seria politica di riforma degli ammortizzatori, a politiche attive del lavoro, a politiche che non prevedono solo la decontribuzione, perché se decontribuisci e però non ci sono le imprese che devono fare assunzioni, fai interventi con risorse che rimangono sulla carta. Questi sono i temi che abbiamo posto, come dare una speranza alle persone che stanno nella ristorazione, che stanno nel mondo dei servizi, che stanno nel mondo della manifattura, che stanno nel mondo dell'agroalimentare, che per effetto dell'emergenza sanitaria e del rallentamento dell'export vedono grandi centinaia di migliaia di posti di lavoro a rischio. Bisogna intervenire su quello e un governo politico deve mettere al centro queste questioni, come si programma il futuro, come si utilizzano bene gli investimenti, anche con scelte coraggiose e come si guardano in faccia le persone, perché non basta dire c'è il rischio. Bisogna sapere che quelle persone rischiano davvero di essere consegnate alla povertà. L'emergenza sanitaria ha consegnato alla povertà tante famiglie, famiglie che avevano un reddito del cosiddetto ceto medio, le partite IVA, quelle che lavoravano con collaborazioni e che nel momento in cui hai chiuso tutto e nel momento in cui nel turismo non riesce a ripartire, nel momento in cui hai tanti pezzi delle attività produttive chiuse, queste sono persone che sono passate da un reddito medio a un reddito senza possibilità di poter fare la spesa. Abbiamo fatto il fondo per le emergenze alimentari, anche per questo tante famiglie con giovani coppie, con figli piccoli, che sono dovuti andare alla Caritas, al banco alimentare, per poter fare la spesa. Se non si fa ripartire il Paese, quelle famiglie purtroppo aumenteranno e l'emergenza che ha Italia Viva è quella di dare risposte a questi bisogni. Grazie e buon lavoro a tutti. Se posso fare una domanda? No, allora una domanda chiaramente a tutti quanti rivolta soprattutto a Matteo Renzi. Le forze della maggioranza hanno fin qui detto però che la vogliono allargare, allargare ai gruppi centristi, ai responsabili, che lei ha definito appunto un'operazione scandalosa. Voi ci stareste in un governo allargato a questi gruppi, quindi alla maggioranza dei responsabili che tutti vogliono includere? Oggi non si tratta di allargare la maggioranza, si tratta di verificare se c'è una maggioranza. Perché se vi fosse stata una maggioranza oggi noi non saremmo stati qui, saremmo stati al Senato della Repubblica per votare la relazione di buona fede. Quindi partiamo da un presupposto. Non siamo qui per il destino cinico e baro, ma perché, almeno sui temi della giustizia, delicato tema di questa legislatura, non c'era più una maggioranza. Noi consideriamo uno scandalo aver tentato di bypassare i problemi che abbiamo posto, che testè ha detto la senatrice Bellanova, ma che possono riguardare gli argomenti più disparati, ma che sono il nostro unico interesse, cioè i problemi degli italiani. Pensi a tutto il tema dell'ambiente e della sostenibilità con la COP26, pensi a tutto il tema geopolitico con il G20. Noi siamo un Paese che ha perso molta della propria influenza in Libia. Noi siamo un Paese che non ha partecipato nelle ultime settimane all'accordo tra Unione Europea e Cina, o meglio, sono stati Macron e Merkel a assistere e in qualche modo a firmare quell'accordo. È un Paese che oggi vede una grande speranza con la vittoria del 46esimo Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. C'è una grande questione che riguarda il futuro della Brexit. Tutti argomenti che, capisco, non facciano titolo, non entusiasmino, ma sono i grandi argomenti della politica. Su questi argomenti che noi abbiamo posto alla fu maggioranza, la risposta che ci è stata data è parsa, almeno a noi, non all'altezza nel momento in cui si è cercato di individuare un gruppo addirittura attraverso prestiti, attività che è più consona al calciomercato per le squadre professionistiche che non al Parlamento. Il prestito per formare il gruppo al Senato ha lasciato perplessi i più. È chiaro che noi non abbiamo nessuna preclusione a discutere con nessuno, se l'orizzonte politico è europeista e ci fa piacere che si siano convertiti all'europeismo anche quelli che un tempo andavano con i gire gialli. Siamo contenti di discutere dell'antisovranismo e ci fa piacere che si siano convertiti all'antisovranismo anche quelli che un tempo strizzavano l'occhio e stringevano virtualmente la mano al governo di Donald Trump o ad altre esperienze del genere sparpagliate per il mondo. Noi siamo contenti se questa maggioranza si allarga. C'è un unico particolare che al momento la maggioranza non c'è. E noi vorremmo far sì che la politica creasse le condizioni per una maggioranza. Però non lo fai mettendosi d'accordo. Non con noi almeno. Sui contenuti, sui post. Si fa sulle idee. Quali sono le idee? Bene, parliamo. Ne ci siamo. A fronte di questo siamo arrivati esattamente al punto di partenza di da dove siamo partiti a novembre. Noi a novembre l'abbiamo scritto al Presidente del Consiglio. C'è bisogno di un salto di qualità. C'è bisogno di un cambio di passo. Non va bene la narrazione dell'andrà tutto bene. Non sta andando tutto bene. Non siamo il governo migliore del mondo. Non siamo un modello per gli altri paesi. Siamo un grandissimo paese che ce la può fare. Ma la narrazione dell'andrà tutto bene non funziona. Dopo due mesi e mezzo siamo tornati come nel gioco del monopoli al vicolo corto, senza passare dal via. La valutazione su quello che spetta a fare non tocca a un piccolo gruppo parlamentare come Italia Viva, ma lo diciamo e su questo vi salutiamo in modo chiaro e definitivo. Chi vuole parlare con noi di politica, di idee, di sogni, di ideali, di dove portare il Paese nei prossimi anni, ci troverà entusiasti perché noi crediamo nell'Italia, crediamo nelle potenzialità di questo Paese, crediamo nella fantasia, nell'estero, nella creatività. Siamo orgogliosi di vedere i nostri infermieri i nostri ricercatori, i nostri talenti. Chi vuole parlare con noi di questo ci trova. Chi vuole affrontare con noi una discussione sul atteddo questo, atteddo l'altro, beh, guardi il volto di Teresa Bellanova che ha un'esperienza personale straordinaria, che viene dall'esperienza della vita difficile nel mondo del lavoro del Sud, che poi ha vissuto un'esperienza nel sindacato, poi un'esperienza in Parlamento, poi sottosegretario, poi vice ministra, e poi ministra. Per una persona che fa una carriera del genere, lasciare il Ministero fare gli scatoloni e dimettersi richiede una cosa che non tutti in politica hanno, il coraggio. Se volete sapere come si chiamano tutti, quelli si chiamano responsabili, quelli si chiamano europeisti, quelli si chiamano… noi ci chiamiamo coraggiosi. Se vogliono parlare di politica ci trovano, se vogliono parlare di compro, baratto e vendo facciano senza di noi. Grazie mille, buon lavoro. Grazie mille. 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 Grazie.